e bentornati in questo nuovo video come avete visto nel titolo oggi shopperemo un bel cioè vabbè con queste gemme prendiamo il nostro cosa magico cioè regalo stamattina alle 8.20 mi sono appena svegliato e ho trovato questo bambini e sono una rivera castello di vero motivo a res che è il tuo ok ragazzi vedo che andiamo a fare ok 2 gemme va bene siamo pronti via abbiamo fatto Ok 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 Oh Si, si, si Dai, rega Due giullari Rega, questo baule Quando vi divoto la cosa Noi Stiamo finendo di andare Poi mettiamolo Qui Poi mettiamolo A posto E E la fuga Quindi un montone a neve Mi chiamano proprio Ciposta Pensavo di trovare di meglio Ma Va benissimo Ok Ah, rega Il castello Non l'ho potuto fare io Perchè Mi sono comprato questo Ma tanto Già sto in un clan Ok Non posso Non me ne prega niente E andiamo subito a provare di giullare al 2 Meno male Cioè io spero Ma che Domani arriva Dragon Ball Orochi Che Domani Lavro Domani No Lavro Domani Lavro Domani Amigli Mi sono Domani Allora Lo Mi vuole Meno Ma Dai, dai Dai Giunare, già mi deve avendo una partita personalica Giunare 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 Oh, hai mai avuto Giunare 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 ora questa qua la vincerò la devo vincere capito la vincerò ok allora iniziamo questa oggi è regato cassatissimo troppo gasato troppo aperto quel bambino si è un mucolo super magico voglio aggiungere voglio aggiungere voglio aggiungere è tutto che ci sono non è è tutto che non siamo è andato non è anche come no ma un argento questa porta fortuna quando faccio allora questi qua sono quelli del clan che vuole venire nel clan si chiama il pro ma non è il mio canale però il pro tutto maiuscolo minuscolo così si è un museo italiano così lo definiamo per questo per questo è il caso Tiziano Deadpool e il camisino che sarebbe il capo ora ve lo faccio vedere non so non so io sono il primo ok lo devo fare vediamo il deck è 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 questo video commentare con il video lasciamo stare ci vediamo nel prossimo video bye bye